Sì, vieni qualcuno. Don Ferdinando! Agnese, per favore. Don Ferdinando, Agnese ed io ci dobbiamo sposare, credetemi. Dobbiamo sposarci presto, prima di Natale. Sì, presto, parliamone. Ma tanto c'è tempo, no? Prima devo consumare in mezzo lutto del mio povero nonno e poi... Non devi pensare male. Rosario mi ha sempre rispettato. Lo giuro. Io... Io tolgo il disturbo. Con permesso. In fondo sono un tipo interessante. Fine. Intelligente. Lo stomaco. Lo stomaco. Bisogna eliminare i grassi, bisogna eliminare gli zuccheri, i farinacei. Bisogna eliminare tutto. Sì, sì. Ti ho portato il caffè. Fresco, fresco. Riposavi? Sì. E basta, di meno. Basta una punta. Ma come? Se ti piaceva dolce il caffè. Ora non più. Pefè, me ne dai un goccio. Proprio un goccio, un goccio. Ma se c'era cucuma piena. No, di quello tuo. Grazie. Ma che sei bianco? Un capello bianco. E ora che te l'ho sciappato, te ne nascono altri sette. Fa così distinto, la tempia un po' grigia, lo sai. Sei fina! Stai attenta al vento! E non c'è tutto fumo in casa! Quante volte te l'hai a dire, cretina! Ma io che... E no, eh! E tu a tua madre ce lo devi dire, abbi pazienza! Il sapone l'abbiamo fatto il 18 del mese scorso! Ora siamo all'11! Ma tu lo sai quanto si spende solo di sapone in questa casa? Ma no, no, per carità, non ricominciamo con le solite storie. Cosa? Ma non lo potete comprare già fatto il sapone? No! Allo spaccio. No! Perché se le cose in questa casa si facessero con un poco di criterio, il risparmio ci sarebbe! Però ora mi sento, tua madre. E no, scusa, io ce lo devo dire, abbi pazienza! Mamà! Rosalia! Mamà! Ma che vai a dire, abbi pazienza! Ma dico io, non fate fare un altro momento per fare il sapone! Ma se non ti ho fatto fare il sapone! Ma è stato tutto il pome in casa! Non se ne può più! Forza, Assessina, brava! Fa così, forza! Brava, Assessina! Alla prossima! Ma che va a dire, attraverso! Ma che va a dire, attraverso! Ma che va a dire, attraverso! No, non ti ho fatto la cosa? Ma che va a dire, attraverso! Grazie a tutti. Grazie a tutti.